E benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Forza Horizon 4 Non so se notate qualcosa di nuovo quest'oggi in questo video Ma la qualità della telecamera è un po' aumentata Perché? Ho comprato una nuova telecamera? No Ma ha prestato la sua che per adesso dovrà aspettare quando gli arriverà il suo nuovo studio Chiamano studio perché adesso non c'è Quindi per un bel po' di mesi probabilmente la vedrete così la inquadratura del mio canale Lo suppongo almeno un paio di mesi la terrai qua a te per ora Finché non arriva bisogna aspettare Per lo più non so se lo avete anche sentito con la voce abbiamo un altro audio Però non vi spoilero con cosa sto registrando Ma vi rimando al canale di mio fratello Che tra due orette uscirà un video in cui unboxeremo Quo testo oggetto per l'audio E poi soprattutto se volete anche andare a sbirciare è già in premiere il video Infatti quindi magari potreste anche già aver capito che cosa vogliamo intendere Non ci perdiamo in chiacchiere perché oggi se cliccassi il gioco Andiamo a aprire le ruote perché sinceramente non c'ho voglia E non ho idea di quale altra macchina fare con la livrea Tutte cose a sede che ho cominciato qualche settimanella fa Pure se sapete anche qualcosa Ecco se avete qualcosa consigliatemi perché io di idee ne ho Tipo adesso poche Tipo tizze E partiamo con 15.000 Presupponevo che di 140 era me Andiamo Non so quanto ne apriremo Vediamo come tira o non tira la fortuna La fortuna non tira bene questo Mi sa che ce l'ho già E l'andiamo a vendere Quindi partiamo male direi E già il primo video becchiamo due soldi Che vabbè Il terzo becchiamo i soldi E allora io non ho capito Spero a te le devo registrare o no Perché se le apro da solo trovo i soldi Se le trovo con voi Se le apro con voi trovo i soldi Che schifo di soldi per lo più Non so neanche quante super ruote ho Probabilmente quarantina cinquantina ce le ho E la maglietta Ci manca Va bene La troviamo nelle ruote piccole Meglio ancora Così almeno poi La abbiamo No dai potevi dammi la Giulia Vabbè Ci manca pure il guantino leggendario Ok Va bene Ma è meglio quei cosi lì che darti i guanti Che darti i soldi Allora Sì Così almeno li finisco Anche se ce ne sono una maria da trovare ancora Però Già bello che me lo dai in quelle piccole Questa ce l'ho Indovina se ce l'ho Ce l'ho già Proviamo ad arrivare a cinquanta Proviamo a venticinque di quelle piccole Non lo so Vediamo Ce l'ho I soldi Indovina Non ce l'ho Ah Finalmente una macchina Fa schifo però dai Facciamo la conta Una macchina Perché oramai la collezione è da finire Questa Probabilmente Ce l'ho E non vale Niente Però ok Poi diciamo Guardate quanti soldi ha Ma i soldi non servono Questa ce l'ho però Questa vorrei 75 mila Però la vendo Ce l'ho già Da drift Tutta custom Tutta fatta Quindi Capisci bene che non mi serve Ecco puoi fare una macchina Magari di Tokyo Drift Questa non lo so Ok Questa no Siamo a due Siamo a due E già Vabbè ovviamente Più andiamo avanti Più è peggio Trovare le macchine nuove Perché oramai Se ce le hai tutte C'è una cosa leggendare Che non capisco cos'è Non l'ho visto anch'io I pantaloni Dammi I soldi Allora piuttosto Dammi I giubbotti Le camicette I guanti Perché dei soldi Li faccio Vendendo una macchina Ecco Infatti tu mi ascolti Gioco Balordo Traduzione Non si può dire Dai Eh Per la macchina sotto Ce la avevo già Quindi ti devo dire Che mi va anche Meglio quella Dei soldi Oramai Dobbiamo Come direbbe Un noto Streamer Dobbiamo platinare Sto gioco Per trovare le robe Per gli achievement Lascia di stare Però platinare Per trovare tutte le robe C'è una Macchina leggendaria Che non lo sappiamo Uno schifo ti ho detto Indovina 7000 40.000 dollari Va bene Legendaria che però Sono i soldi 250.000 No Sì soldi Marta Cisua Due leggendari Che però Ho visto solo quello sotto La corvette E Camatina Quella roba lì Valeva un C'è Tre macchine nuove Preferivo il doppione Legendaria Però Della Della sesto elemento È ok Va bene Sì Quanto vogliamo arrivare Oggi 70 milioni Li tocchiamo Sicuri 100 per mille Li tocchiamo Ah pure 71 Questa ce l'ho già Indovina un po' Butta via Ne apriamo altre tre Inclusa questa Quattro Però poi ne abbiamo Di super rosa Perché qua Vedi Vedi Non mi serve Vedi La Daytona quella lì Forse è buona da vendere Forse Dai Dai Ok Mi va bene È brutto Gli altri video Mi incazzavo Se trovavo i cosi Adesso non so perché Ma sono felice se li trovo Tanto le macchine Ce l'ho tutte Per finire Sti vestiti Platinare i vestiti Platinare i vestiti Ricordiamo questo termine Questo Il gran Cirocchi Ce l'ho Già Non ce l'ho Quattro macchine nuove Andiamo di super E poi ne abbiamo 50 E va bene Insomma Non rompere la balle Tre Ta Quote Soldi 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 In teoria Ah no 5 Ma strano Ma ce l'ho già L'erano 5 No però forse questa qua Non è quella turbo Soldi Soldi Ho già tutto Non lo so No Ma ce l'ho sta macchina Ah no Magari sono anni diversi Boh Non mi chiedere Scarpe Soldi La GTR Mi piace Preferivo quella sopra Che non so cosa sia In teoria ce l'hai La Nissan No Allora O non me le fa vendere O veramente mi mancano Mi sembra strano eh Magliettina Soldi Soldi Preferivo la La Forza Edition Che non ho Eh ok 70 milioni e mezzo 71 Li tocciamo Tanto per Ah ah Soldi Soldi E non ce l'hai Ah no Ok Quindi quella era tutta nuove Quanti usiamo 8 9 7 Qualcosa del genere No per te ne beccate 3 8 9 Eh bene Accettiamo C'era di meglio Eh beh direi che c'era molto meglio Vediamo che mi da Buona Buono Buono no È nuova la macchina Ti devo dire Cioè è usata La leggenda era che c'è al centro Eh è già passata Ciao Era interessante Vabbè Quella Urca quanto vale 65 mila Quella pepina Allora Sto prendendo bene Magari Soldi Macchina Ok 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 Ma quella è bello di veicolo Dovrebbe mancarmi Si Manca la Forza Edition Questa non devo comprarla Ezz E se tanto non l'abbiamo superata C'è una cosa Ah i milioni Per la Vantage Non lo so Non ce l'ho Ah Buono Undici Buono Ah sono tante macchine Va bene dai La Cal Mi manca sicuro E quell'altro però ce l'ho Bello Infatti la Falcon ce l'ho La Cali T La California T Mi manca quindi Mi va bene Mi va bene State buoni Ce l'ho Ce l'ho Non mi servono Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho E per forza che i soldi ce l'hai Diamo Andiamo a 15 di queste A 72 punti No A 72 milioni Mi manca Mi manca per forza E i soldi ce li ho Ok Ok ero un po' indeciso Se mi mancava o meno La Quella Quella di un buggy lì Blazer oro Ah Questo È Uno spin Vorrei finire qua Ma il numero 16 Non mi piace Andiamo Sperando che non sia una schifezza Che se no A me neanche 15 ci piace Non abbiamo brutta Bruttezza Ma proprio concludiamo di merda Concludiamo Cambia Cambia rosa Andiamo Facciamo un paese Io direi che Neanche il 15 ci piace Facciamo ancora un po' Perché se no qua Brutta storia Massimo 10 va Diciamo che non ci piace Neanche il 14 Ma ne apriamo Una tredicesima Nel senso Un 14 Dai su Vabbè insomma Non ci piace Aspetta Aspetta Andiamo un attimo Di ruotini E garanto C'è un nuovo Un fracasso Ma è l'ultimo Ma la capri MK1 Ah no È quella Force Edition Che si trova Super mega rara No No Stavo scherzando Ci metterai Una faccina Sorridente Magari Sopra Sì A faccia da cazzo Ci metto Dai Gli ultimi sette Riusciamo a girarle Schippa Che ultime sette Ma che Schippa Fanno una Schippa Erano 6 milioni Erano 6 milioni Quella macchina Lì Se la vende No Super veloce Sì sì Più o meno Siano lì Dovemmo fermarci Ur Capitano Fattere Sì Purtiamo giù tutto Computer Spacchiamo il joystick Ultima Che ci darà La macchina Del Zio Peppino Ma io non volevo Prima Ho sbagliato a cliccare Ho sbagliato a cliccare Vabbè Sbagliato a sua casa Va bene Dai E allora Non ne apro più Basta Hai rotto i coglioni Signori Il video si può concludere qua Vi ricordo che Tra due orette Se guardate questo video Il 11 settembre 2022 Ci sarà Alle ore 12 Alle ore 12 Ci sarà in premiere sul suo canale Alle ore 14 dell'11 Settembre 2022 Ci sarà sul suo canale la premiere di Vi spoiler Vi spoiler che Che ho compato per registrare l'audio Anche se Suppongo che si sia capito Noi Ci becchiamo In un prossimo video E prima di concludere Voglio dirvi Anche se non vorrei dirlo Neanche a me stesso Buona scuola Brutto da dire Ma bisogna andare a scuola domani Quindi Buona scuola Speriamo che vada bene Siete promossi Spero di sì Noi ci becchiamo Ad un prossimo video Settimana prossima Speriamo con qualche Livrea Che mi invento Bella